Il comportamento serio dei Lombardi tenuto in queste settimane ha consentito di poter ottenere oggi che la Lombardia entrasse nella zona arancione. Il Ministro oggi firmerà l'ordinanza che verrà domani pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore il giorno successivo. La zona arancione, come ho detto, viene dichiarata da oggi. Domani l'ordinanza viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e per una questione tecnico-burocratica entra in vigore il giorno successivo.